Ravivate il dono dello Spirito Santo che avete ricevuto e ridate vita alla vostra vita, celebrate in cattedrale la veglia ecumenica. Ecumenismo spirituale e cristiani insieme possono al Centro Pastorale Diocesano giovedì 18 gennaio si è tenuto l'incontro ecumenico di Metropolia Relature Don Cristiano Bettega. Sabato 27 gennaio la Marce Veglia per la Pace organizzata dall'Azione Cattolica e Caritas Diocesana. Bulli e vittime, ruoli equivalenti alla Mediateca Montanari, un interessante incontro con lo psicoterapeuta Mario Dell'Adora. Ben trovati a questa edizione del TG Web, apriamo questa edizione parlando della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Diversi sono stati gli appuntamenti in diocesi fra i quali la veglia ecumenica che si è tenuta sabato 20 gennaio in cattedrale, animata dal servizio diocesano di Pastorale Giovanile e dai ragazzi della parrocchia di Lucrezia. È stata interamente animata dai giovani la veglia ecumenica diocesana sabato 20 gennaio in cattedrale, momento culmine della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, veglia celebrata sullo stile di Tesea, la presenza di tanti giovani e dei diversi ospiti provenienti dalle chiese ecumeniche gemellate. A prendere la parola a inizio celebrazione è stato Don Vincenzo Solazzi, direttore dell'ufficio diocesano per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso, che ha presentato le diverse chiese cristiane gemellate presenti in questo momento di preghiera. La veglia è stata presieduta dal vicario generale Don Giuseppe Tintori, che ha proposto la sua meditazione sulle letture della liturgia ecumenica. Ravivate il dono dello Spirito Santo che avete ricevuto, ha concluso Don Giuseppe, e ridate vita alla vostra vita, eliminate la cenere dal vostro cuore, fate ardere il fuoco dello Spirito che è in voi. Una veglia ricca di canti, meditazioni, che si è conclusa con l'adorazione della croce posta ai piedi del presbiterio. E continuiamo a parlare di ecumenismo, perché giovedì 18 gennaio al centro pastorale diocesano si è tenuto l'incontro ecumenico di Metropolia e il relatore dell'incontro è stato Don Cristiano Bettega, che è intervenuto sul tema ecumenismo spirituale. I cristiani insieme possono. Vediamo il servizio. Lo Spirito Santo, che abita nei credenti e tutta riempie e regge la Chiesa, produce quella meravigliosa comunione dei fedeli e intimamente tutti unisce in Cristo, da essere principio dell'unità della Chiesa. Da questa frase della Unitatis Red Integratio ha preso spunto Don Cristiano Bettega, direttore nazionale dell'Ufficio Ecumenismo e Dialogo della CEI, per la sua riflessione sul tema ecumenismo spirituale, i cristiani insieme possono, in occasione del convegno ecumenico di Metropolia che si è tenuto giovedì 18 gennaio e che ha aperto in diocesi la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. All'incontro ecumenico di Metropolia, introdotto da Don Vincenzo Solazzi, responsabile diocesano per l'ecumenismo e il dialogo, erano presenti anche i tre vescovi, Monsignor Piero Coccia, Arcivescovo di Pesaro, Monsignor Armando Trasarti, Vescovo della diocesi di Fano, Fossombrone e Cagli Pergola e Monsignor Giovanni Tani, Arcivescovo di Urbino, Urbani e Sant'Angelo in Vado. Monsignor Piero Coccia ha ringraziato tutti per la presenza e ha invitato le tre diocesi a proseguire e consolidare questo cammino di metropolia intrapreso già da tempo. A Monsignor Giovanni Tani è stato affidato il commento al Vangelo di Matteo, al capitolo 25. Questa pagina di Vangelo, sottolineato Tani, è un punto di riferimento fisso nella vita nel Ministero di Papa Francesco, che ci invita all'accoglienza senza creare divisioni o steccati. Dobbiamo vivere questa settimana ecumenica all'insegna dell'annuncio di questo Vangelo. Nella misura, infatti, in cui vogliamo mettere Cristo al centro della nostra vita, tanto più ci sentiremo sulla strada dell'accoglienza verso i più bisognosi. Il Viescovo Armando ha messo in evidenza come i viaggi ecumenici aiutino molto, soprattutto il popolo, in questo cammino di dialogo. La parola è poi passata a Don Cristiano Bettega, che si è soffermato sullo Spirito Santo, attore principale dell'ecumenismo. Lo Spirito Santo, affermato Don Cristiano, suscita continuamente movimenti e provocazioni per il cammino dell'unità dei credenti e inoltre affermare che ci si avvicina a quell'unità che Gesù Cristo vuole, significa non solo che è volontà di Cristo, ma anche che questa unità verso la quale siamo tutti incamminati non è opera nostra, ma è quella voluta da Cristo. Don Bettega ha posto l'attenzione poi, citando Casper, sulla diversità riconciliata e sul significato di unità della Chiesa. Compito dell'ecumenismo non è quello di rimuovere le tensioni, impresa per altro impossibile e inutile, ma piuttosto quello di trovare un grado di consenso sostanziale, che accolga le differenze tra le Chiese e le visioni teologiche, ma elimini le reciproche incompatibilità. Casper afferma con coraggio, abbiamo fatto un notevole progresso dopo il Concilio Vaticano II, ma non abbiamo ancora raggiunto lo scopo ecumenico finale. Viviamo perciò ancora in un periodo di transizione che durerà probabilmente un po' di tempo. Quando questo tempo possa durare, impossibile dirlo, interessante però, proseguito Don Cristiano Bettega, che Casper, sicuramente tra i teologi più appassionati per l'ecumenismo, parli non di comunione scatologica, ma di comunione ecclesiale, dentro una diversità riconciliata, nella quale cioè persistano le differenze, ma senza che queste siano più causa di conflitto o di separazione. Infine Casper parla di due forme importanti e collegate di ecumenismo per questo stadio intermedio, l'ecumenismo ad extra, mediante incontri ecumenici, dialoghi e cooperazione, e l'ecumenismo ad intra, mediante riforme e un rinnovamento anche della Chiesa Cattolica. La relazione integrale di Don Cristiano Bettega è disponibile sul sito fanodiocesi.it. Anche quest'anno, in occasione del Mese della Pace, sabato 27 gennaio, prenderanno vita la Marcia e Veglia della Pace, per la prima volta in un unico evento diocesano. Un appuntamento organizzato dalla sinergia nata fra l'Azione Cattolica, la Caritas e la Sala della Pace della Diocese di Fano Fosnombrone Cagli Pergola. Durante il raduno dei partecipanti alle ore 15.30 all'Anfiteatro Rastat, si terrà il momento di accoglienza e la testimonianza di Mattias Canapini, giovane fanese che con la macchina fotografica insegue storie viaggiando per l'Italia e per il mondo. Canapini condividerà la sua esperienza proprio attraverso le sue immagini, proponendo ai presenti quelle che hanno maggiormente colpito la sua attenzione. Per questo motivo Scatti di Pace è lo slogan della marcia. durante la quale alcuni scatti del fotoreporter accompagneranno il cammino che si snoderà lungo il centro storico fino ad arrivare alla chiesa di Santa Maria Nuova. Proprio nella chiesa di Santa Maria Nuova, con il vescovo Armando, si terrà la veglia per la pace. Un momento di preghiera in cui saranno le parole di Papa Francesco, assieme alla parabola del buon samaritano, ad aiutare l'Assemblea a riflettere su come oggi si può agire per vivere in un mondo di pace. Un incontro interessante che ha permesso ai presenti di conoscere più a fondo il fenomeno del bullismo, quello che si è tenuto, incontro che si è tenuto appunto giovedì 18 gennaio alla Mediateca Montanari con lo psicoterapeuta Mario Dell'Adora. Di bullismo si è parlato nell'incontro organizzato dall'assessorata ai servizi educativi del Comune di Fano giovedì 18 gennaio alla Mediateca Montanari. A introdurre la serata Gisella Fabri, dell'assessorata ai servizi educativi, che ha affermato come il fenomeno del bullismo negli ultimi anni stia riguardando fasce di età sempre più basse, fino ad arrivare ai bambini delle ultime classi della scuola primaria. La Fabri ha sottolineato la necessità di conoscere in maniera sempre più approfondita le nuove forme di bullismo. La parola è poi passata a Mario Dell'Adora, psicoterapeuta sistemico familiare, che proprio partendo dalla sua esperienza di lavoro e supporto alle famiglie, ha esordito mettendo in evidenza come qualsiasi tipo di problema dell'età evolutiva sia in stretta connessione con il contesto familiare. Possiamo dividere il bullismo indiretto, tipico dei maschi, e indiretto più frequente tra le femmine. Il bullismo diretto è fatto di offese verbali e fisiche, di maltrattamenti, mentre quelli indiretto si esplicita in calugne, maldicenze, gestione di immagini negative delle proprie coetanee. Occorre a proseguito Dell'Adora cercare di definire analiticamente il problema per poi intervenire sostanzialmente in due modi, ovvero in un intervento preventivo o terapeutico ricostruttivo. Lo psicoterapeuta si è soffermato sulle caratteristiche tipiche del bullo, che non è mai da solo, ma sempre vicino a chi con lui agisce attivamente o chi contribuisce anche non attivamente a rafforzare il suo atteggiamento nei confronti della vittima. In merito a questo fenomeno siamo tutti chiamati in gioco e dobbiamo collaborare per affrontare queste tematiche. E mi riferisco a insegnanti che operano nel settore della scuola, educatori, ad allenatori che vivono con i ragazzi il momento dello sport, perché siano formati e preparati a crescere persone sempre più mature ed equilibrate. Ai genitori che non devono essere amici dei figli, ma i figli devono riconoscere in loro un'autorevolezza. Non devono aver paura di entrare nella vita reale e social dei propri figli, conoscere le loro abitudini, le loro frequentazioni e il loro modo di comunicare tra loro. Ricordiamoci che tutte le volte che un educatore o educatrice di scuola primaria o secondaria intervengono in classe per sminuire davanti ai compagni un alunno, si fanno portatori di bullismo. Della Dora ha illustrato le varie forme di bullismo, con particolare attenzione a quello versi disabili, a quello omofobico e al cosiddetto cyberbullismo, molto difficile da tenere sotto controllo. Per oggi è tutto, vi ricordiamo che è possibile seguire il nostro TG Web sul sito fanodiocesitv.it Grazie per essere stati in nostra compagnia e arrivederci. Grazie per essere stati in nostra compagnia.